La posta militare leata. Nel gennaio del 1943 i tre grandi si riunirono a Casablanca per una conferenza fatta per decidere le partizioni delle sfere di influenza territoriale post bellica e il comportamento da tenere nei confronti dei vinti dopo la fine della seconda guerra mondiale. Il 10 luglio dello stesso anno sbarcarono in Sicilia le truppe anglo-americane che diedero inizio all'operazione ASCII che in una quarantina di giorni li portò alla conquista dell'isola. Come regola generale quando gli alleati occupavano una zona presa al nemico sospendevano sistematicamente sia lo spostamento della popolazione sia il servizio postale per periodi più o meno lunghi. La corrispondenza ufficiale e quella commerciale poteva essere spedita anche in busta aperta. La corrispondenza familiare potevano essere inviate solamente con cartelline postali o illustrate con un massimo di 25 parole. Tutta la corrispondenza era censurata. In Sicilia, dopo lo sbarco e controllo totale dell'isola, quindi dopo circa un mese, gli anglo-americani, dopo aver costruito l'ammogot, permissero il ripristano del servizio postale nella sola città di Palermo, a cominciare dal 24 agosto 1943 ed è esclusivamente per le cartelline postali entro il distretto, da affrancare con il francobolo di occupazione da 15 centesimi. Altri valori postali degli anglo-americani stampati negli USA vennero introdotti tra la metà di settembre e l'ottobre successivo. Dalla città di Palermo il servizio venne poi gradualmente attivato ed esteso in altre qualità. La ripresa dei servizi postali dell'isola fu sostanzialmente completata il 12 dicembre del 1943. La corrispondenza che dalla Sicilia era indirizzata ai prigionieri di guerra in mano alleata fu possibile inoltrarla a partire dalla terza settimana di settembre del 1943. I valori di maggiore uso durante l'occupazione della Sicilia messi in circolazione dagli americani erano stati stampati negli USA in due tempi. Inizialmente era stata prontata solo la parte colorata con la scritta posta militare alleata e con le cifre senza specificare la moneta e la località per motivi di segretezza militare. In seguito a sbarcavenuto vennero raggiunte le scritte in nero con le varie nazioni.